Perché è lungo il programma, questi signori qua vogliono andare a dormire, guarda come sono divertiti, divertiti, bui baccalà E voi c'è il mangiato? Chi c'è qualcuno di voi che si chiama Luigi? Non è il pubblico? No, ho lì la mia Luigi? Ok, si chiama Luigi Paolo, vieni Dici questa cosa che Maria Lossi ha scritto per te Perché Maria Lossi ha scritto per te Se tengo quel cappello strano E' quella che, ma che fa questo mio microfono? Mi alza, si abbassa da sola C'è la magia, guarda, l'hai visto? L'ucidò Ma fa l'ucidò La tecnologia La tecnologia mi ha abbandonato definitivamente Ah, si sente? No, no Si sente Era meglio che non si sente Sente male? Abba state l'uomo Ma non mi sto paolo Eh, non mi pare poco Chi nasce da un numero quadro? Come si sente? Sente bene? Si E chi mora a Napoli è fortunato Perché la morte sua è diventa nutriente O sei tu O saponate Voi permettete Io mi faccio una grattata O sei tu O sei tu E questa è una danza funeraria del settecento Maestro Vai 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 L'ac избежabile Hovo le mani Sei manca one froh Don Ma qualcuno Sete le mani Qua Role 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 It L'ampesi O Role 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 Europ Role 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.